Formiamo un po' il mondo storico della società. A mio avviso la società come la nostra ha bisogno che la presidenza vuoti, vuoti nel senso dopo 18 anni e 5, e non sia più sufficiente, è giusto che arrivino in aggiunta a quale già in essere delle nuove, gente che abbia un entusiasmo. E proprio un mese fa, ad un incontro con Antonio, ci è stata presentata Elena. Devo dire che siamo stati tutti ben impressionati, ci siamo trovati di fronte una persona intelligente, capace e la cosa che ci ha meravigliato è molto impressionante di calcio. Quindi abbiamo prontamente offerto la possibilità di entrare nel Consiglio, assumendo la presidenza. Diciamo che lei è rimasta un attimino così, però sembrava ben propesa. Nei prossimi giorni faremo un incontro dove l'anderemo è dotta di come funziona la nostra società, le faremo vedere l'estatuto, come diceva Bassanetti, non è una società, non è una società, è tutto organigrama. Diciamo a 99.9 la cosa è fatta, quindi passo la parola a lei.